Sonni di vivere in un oasi di tranquillità senza rinunciare al lusso e al comfort? Questa villa di pregio è la tua risposta. Situata nel suggestivo Residence San Materno, offre un ambiente sicuro e recintato. La villa è curata nei minimi dettagli, con ampi spazi esterni circondate da piante ornamentali e due eleganti pati. All'interno vi è una testimonianza di eleganza e stile. All'ingresso ci accoglie un salone, illuminato da una vetrata, che si appaccia sul giardino, regalandoci una vista mozza piato. La villa dispone di uno studio per chi vuole l'ufficio a casa. La camera matrimoniale offre una vista incantevole sulla piscina ed è dotata di cabina armadio, mentre la seconda camera ci accoglie con comfort e tranquillità. I due bagni, di cui uno con vasca idromassaggio, garantiscono il massimo del relax. Il giardino, curato con dedizione, è un'oasi di pace e serenità. La depandanza a vetri è il fulcro degli spazi esterni, arricchiti dalla grande piscina, dotata di impianto audio Hi-Fi e un impianto a nebulizzazione automatica per la protezione da zanzare e insetti, per godersi i momenti di sbago in totale sicurezza. A servizio della piscina vi è un comodo bagno con doccia. Portile e pati completano gli spazi esterni, rifiniti con ceramiche di pregio, perfetti per momenti conviviali con famiglia e amici. In tavernetta vi è un ampio camino, ideale per trascorrere serate in compagnia. La zona cucina è funzionale e ben attrezzata, mentre la camera da letto per gli ospiti e l'ampio bagno offrono comfort e privacy. Completa la proprietà un comodo box auto. La villa è dotata di impianto fotovoltaico e pannelli solari per l'acqua calda, garantendo un approccio sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Questa villa è un'oasi di tranquillità per coloro che desiderano sfuggire al caos cittadino senza rinunciare al lusso. Pogli l'opportunità di vivere in un ambiente unico e raffinato. Contattaci ora e prenota una visita. Ciao, alla prossima!